ragazzi non ho niente non ho niente comunque andiamo a fare questa nuova meme review comunque vi devo dire una cosa ho 64 commenti Mario 64 2 is in a rave comunque io vi informo che c'è stato un nuovo meme in America e si chiama la Wide Putin Walk che è questa no aspetta why is Putin wide the wide Putin meme si a quanto male questa è il meme più forte in questi ultimi anni c'è anche la top ten di cui ne esistono nove parti ok comunque abbiamo perso abbastanza tempo ah ma comunque andiamo ai memes di queste giornate prof cosa venite a fare a scuola in questa classe non mi ascoltano nemmeno i muri il muro che stavo ascoltando da inizio ok capito ok capito un ringraziamento a tutti gli italiani che hanno rispettato il lockdown evitando i contagi abbiamo protetto l'Italia la famiglia contagi cosa oh non ci abbiamo riuscito a vedere io Siri scrivi al mio socio che è andata via la luce Siri ok scrivo sui social via viva il duce server pack but piatti tipici nei vari paesi USA hamburger Italia pizza Giappone sushi Unione sovietica app vote io chiamo 20 volte mio padre per svegliarlo senza riuscirci sempre io vado in cucina cercando di non fare rumore mio padre what the fuck are you identity tiff loose nick imperfezione viene scoperta nel 1812 persone nel 18 no è 1813 persone nel 1812 wow sei sexy credi di poterti permettere la PS5 clienti suoni well yes lavoratori suoni quando sei un raccata a palle e dopo avergli dato la palla a un giocatore ti sorride per un secondi dicono che nelle nuvole si vedono i propri desideri tu cosa vedi amore vedo noi due insieme per sempre oh un mille up vote si anche io aspetterò mille up vote ma andrebbe bene primo su tendenze con questo meme quando sei in giappone a vedere l'evento doomsday di fortnite ma i rumori dello tsunami sembrano più realistici forse lo tsunami è apparso in giappone tizi tizi a caso giocano a gta 5 napoletani noi lo facciamo come lo fate voi ma più in grande wow mia madre dice che mi comprerà la PS5 quando gli asini voleranno io faccio bere la Red Bull agli asini sempre mia madre che battuta di cacca io barcollo al primo bicchiere di vino mio zio che ha la quarta bottiglia la debolezza mi disgusta up vote ragazzi per la gita in Francia ci faremo tantissimi selfie per aumentare i followers ragazzi ok facciamo il resoconto questa se per caso ma stiamo vicino alla torre Eiffel questa per sparare a qualche passante questo ci serve per staccare la gioconda dal muro di Louvre e riportarla in Italia mi sa devo andare meglio boom gta 5 napoli simulator meme quando all'elementario rispondevi assente all'appello della maestra i am the winner ho tradotto un meme bella foto profilo allora la tolgo bello stato allora lo tolgo bel vestito don gino capitano findus cino abilita a cattura i bambini del suo mano e li chiude in cantina i difetti ha bisogno di molto viagra i nemici forze speciali capitano findus fanno le stesse cose leggetele tutto quando nel 2021 si tornerà a studiare sul banco di scuola con libri e guaderni vediamo se si ricorda come non si fa da un voto mia madre compra i polaretti io 5 minuti dopo sono pieno di stickers stormy dice per 10 minuti amici miei stalin in oltre 17 a proprio come il nome come il costo di spawn quando all'elementare la maestra non voleva sentire volare una mosca il tuo e il tuo amico facevate mo' se mo' criminale io ho 8 anni che scappo da mia madre dopo averle detto alle 9 di sera che mi serve Vivnaville e i cartoncini colorati per un progetto a scuola del giorno dopo fuga ragazzi dovevo fare un attimo una cena quindi scusate riprendiamo io che prendo una sedia da un su wish a 50 euro invece che a 915 euro che conveniente ok ok up vote no aspetta da un vote poi up vote era doppia quando sbatti quando sbatti il dito sul piede sul comodino ma non puoi porconare perché hai il tuo cugino di 4 anni di fianco tisca tusca madonna etrusca mio cugino di 9 anni ho trovato questo gioco che si chiama Five Nights at Freddy's dovrebbe essere carino ci sono i pupazzi che cantano io vermi insetti ragni esistono tutti che schifo uccidiamoli africani ti piacerebbe diventare una caramella quando presti la tua macchina la tua ragazza lei torna da te piangendo è rigata cosa professore ragazza il test è andato male tutti tranne che una ragazza si vede chi studia e chi no il sabato prima prof non è family friendly questo meme vi faccio vedere una volta in cui la copertina è andato sul meme non family friendly guardate il meme meme srubati da altri youtuber questo è proprio arrivato durante uno dei meme non family friendly bene questo video non è monetizzato non lo possono guardare in tanti quindi chiudiamo questa storia io sbatto il mignolo contro il comodino dio why always me mio caro sparla sparlare di don gino capire cosa fa capitano findus con i bambini di mare i fiori sullo sfondo non servono a niente produttori di spongi bob non ce frega un cavolo perché i fiori sono importanti striscia la notizia inizia le veline iniziano a ballare io non è family friendly questo meme troppi meme non family friendly quando fai un ottimo meme con dati up votes ma realiggi che è domenica e quindi non finirà mai tra i meme della settimana i've won but at what cost fireranno i top di tutti i tempi io mi collego al sito per un importante colloquio di lavoro no no è bello questo chi può battere chi può battere T-Rock Brock Lesnar John Cena la carta ma questa è una battuta del cavolo da un vote inoltre scriviamo per finire in bellezza per no no facciamo così non fa ridere sì perché perché sul letto alle 3 di notte star notisco colo di vestiti sulla sedia salute io what the fuck io finalmente dopo mesi di lavoro ho comprato la PS5 mio fratello abbiamo nessuno letteralmente nessuno bisogna la presentazione del DPS6 nel 2027 ritorno al futuro be like perché devono fare sempre be like io mentre provo le mosse di wrestling viste in tv mio fratello leggiamo i commenti e finiamo questa puntata di meme e la WWE dice di non provare vabbè no no non l'ho voto perché l'immagine è quella di sì il top plate che cosa I don't know broder comunque mega meme mega meme mega meme infatti io non preoccupate non fa c'è un fuck comunque ci vediamo al prossimo meme review ciao ragazzi ciao ciao